Filippo Canna, un settimo posto che non ti può far piacere? Logicamente si viene da parte opposta del mondo, non si viene per indossare una maglia o un numero, ma si era venuti con gli obiettivi. Oggi le gambe non erano quelle dei giorni migliori, già stamattina quando mi ero svegliato non trovavo un ottimo feeling, al contrario dei giorni scorsi che invece, test fatti anche personali con i ragazzi, si riusciva a tenere i valori molto che facevano sperare. È andata così, c'è un po' sì di delusione, però la gara è gara. Se vincevo erano tutti felici e a quanto pare perché ho fatto un settimo posto ho fatto il flop dell'anno. Mi spiace magari l'unico rimpianto di aver fatto svegliare tanti amici o parenti presto per vedere la prova e poi è andata un po' così. Bene, grazie. 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 Grazie.